Stop al pesce fresco a tavola lungo tutto l'Adriatico con l'avvio a partire da oggi del blocco delle attività di pesca nei tratti di costa da San Benedetto a Termoli e tra Manfredonia e Bari che durerà per 42 giorni consecutivi fino al 23 settembre. A darne notizia è col diretti impresa pesca che sottolinea come il fermo biologico segue a quello già scattato il 30 luglio scorso da Trieste ad Ancona che rimarrà in vigore fino al 9 settembre. Il blocco delle attività della flotta da pesca italiana in tutto l'Adriatico per cui chiediamo da tempo una radicale modifica ha determinato in Puglia un crollo della produzione, la perdita di oltre un terzo delle imprese e di 18.000 posti di lavoro con un contestuale aumento delle importazioni dal 27 al 33 per cento, denuncia il presidente di Coldiretti Puglia Gianni Cantele sottolineando che il fermo biologico non risponde più da tempo alle esigenze della sostenibilità delle principali specie target della pesca nazionale, tanto che lo stato delle risorse nei 33 anni di fermo pesca è progressivamente peggiorato come anche parallelamente lo stato economico delle imprese. Con il fermo pesca, denuncio ancora Coldiretti Puglia, aumenta il rischio di ritrovarsi nel piatto grigliate e fritture di pesce straniero o congelato. Il settore, conclude Cantele, soffre inoltre la concorrenza sleale del prodotto importato dall'estero e spacciato come italiano, soprattutto nella ristorazione grazie all'assenza dell'obbligo di etichettatura dell'origine.